Un crimine di guerra, così la Corte di Cassazione ha definito la strage di Gorni Vakuf, in cui nel 1993 persero la vita tre volontari, tra i quali il cremonese Fabio Moreni, recato sinalezio Jugoslavia per portare aiuto umanitari durante la guerra civile. Per questo è stata confermata la sentenza a 20 anni di reclusione per Anneficia Prisic, 52 anni, noto come comandante Paraga, sentenza emessa l'anno scorso dalla Corte d'Assisi ad Appello di Brescia. Il triplice omicidio, oltre che di Moreni, anche di Sergio Lani e di Guido Puletti, secondo la Cassazione è di gravità tali da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona e si configura come una palese violazione dei principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 1949. Toni durissimi che rafforzano ora il proposito di cercare gli esecutori materiali di quella strage. Un'inchiesta per ora contro i gnoti aperta dalla Procura di Milano. Prisic invece è stato ormai liberato, come è noto, avendo scontato la sua pena, parte in patria e parte in Italia, ed essendo stato poi espulso dal nostro territorio nazionale.